La ricostruzione di un antico rituale del Regno di Napoli è la prima esecuzione in tempi moderni del mottetto di Gaetano Veneziano in lode del Santissimo Crocifisso del Carmine. È il programma dell'iniziativa Il Crocifisso Svelato, realizzata nell'ambito del Natale a Napoli dalle associazioni Nartea e i figlioli di Santa Maria di Loreto, col patrocinio del Comune di Napoli del Teatro San Carlo e della Fondazione Banco di Napoli. Vice re accompagnato dagli aristocratici che all'epoca erano una sorta ecco di Parlamento dell'epoca che rappresentano appunto i sedili di Napoli e quindi si vedrà questo corteo storico con attori e napiti storici di fine 500 spilare all'interno della Basilica. Una grande partitura dedicata proprio al Crocifisso del Carmine che è custodita presso l'archivio dei Girolomini che oggi non è il più consultabile ma in realtà c'è in internet culturale e ci ha permesso di ricostruire tutta la cerimonia così come avveniva nel 600. L'evento avrà luogo mercoledì 30 dicembre nella Basilica del Carmine Maggiore il cui Crocifisso, secondo le cronache d'epoca, avrebbe piegato miracolosamente la testa per scampare a un colpo di bombarda. Sarà veramente una pagina culturale di rilievo internazionale. Io sono molto orgoglioso che ad essere impegnato in questa riscoperta con grande rigore scientifico e culturale di questo immenso patrimonio di cui la città è depositaria siano tanti e tanti giovani. Anche questa nuova aggregazione di musicisti che ha ripreso il nome di uno dei vecchi conservatori di Napoli è fatta da tanti giovani, così come la rappresentazione storico-culturale è fatta dai giovani di Nartea che hanno svolto in questi anni veramente un lavoro formidabile per avvicinare i napoletani al loro patrimonio culturale. Venerdì 12 dicembre nel Museo del Teatro San Carlo un incontro pubblico racconterà le celebrazioni devozionali che si svolgevano tra il 600 e il 700 nella Basilica del Carmine Maggiore.